Domenica 1 febbraio, Santa Verdiana, è il 32esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 333 al termine, il sole sorge alle 7.33 e tramonta alle 17.20, la luna si leva alle 15.20 e tramonta alle 5.28. Le autorità austriache di Venezia sono in stato di preallarme per l'attività di un misterioso comitato patriottico che incita alla disobbedienza ai sudditi del regio governo asburgico. Le previsioni per domani, in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo passaggi di nuvolosità alta, possibili riduzioni della visibilità nelle ore più fredde sulla pianura e nelle valli. Precipitazioni generalmente assenti, anche se non è del tutto esclusa la possibilità di qualche debolissima, locale e sporadica precipitazione, soprattutto nella seconda parte della giornata, temperature senza notevoli variazioni o in leggero calo specie le minime.